Allora, siamo con Sinesi e Panza del Don Bosco e oggi abbiamo giocato un troppio dodicesimo e abbiamo vinto 13 a 1 e abbiamo passato il turno come una dei quattro migliori terzi. E te che ne pensi questo turno passato? Abbiamo giocato bene, stavamo belli compatti e abbiamo fatto male. Io penso che giocando con la difesa a tre e giocando con i quattro centrocampi e seri attaccanti abbiamo espresso un buon gioco e si vedrà. Adesso andiamo avanti, chi vinca è il migliore. Vorrei fare un saluto alla mia ragazza e gli dedico questi due gol. Ciao Grina!